Buonasera e bentornati con il nostro notiziario in diretta che apriamo con le ore di attesa nella base USAF di Aviano dove tra questa sera e lunedì mattina si aspetta l'arrivo di circa 600 cittadini afghani tra civili e militari profughi in fuga dai talebani vicino all'Hangart. È stata allestita una tendopoli all'interno della base che potrebbe servire per un pernottamento oppure per l'accoglienza di qualche ora. Arriveranno contro i voli militari distinti alla base USAF di Aviano i profughi provenienti dall'Afghanistan ormai in mano ai talebani. Si tratta per lo più di personale militare civile di nazionalità afghana, circa 600 persone. Siamo stati informati tempestivamente dal prefetto di Pordenone, Domenico Lione, spiega il sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit, naturalmente prima che la notizia divenisse di dominio pubblico. L'operazione è seguita ad altissimo livello. Lo scalo di Aviano è considerato strategico nello scacchiere internazionale. Non ci sarà la necessità da parte delle autorità comunali locali né da parte di altri enti assistenziali di prestare supporto in questa operazione, continua il sindaco. L'autorità di governo locale infatti ci ha assicurato che una volta sbarcati i profughi non potranno uscire dalla base USAF. Il loro arrivo è previsto tra la giornata di oggi e lunedì mattina. Abbiamo notato, dice il sindaco vicino all'hangar, l'allestimento di un attendopoli. Servirà con ogni probabilità per un pernottamento oppure per l'accoglienza temporanea prima della ripartenza alla volta degli Stati Uniti, destinazione finale dei 600 profughi. Ci è stato spiegato anche che lo scalo di Aviano è l'unico prima dell'arrivo negli States, conclude il sindaco De Marco Zompit. Restiamo sempre nel frullo occidentale però per parlare della sospensione di 12 medici da parte del Consiglio dell'Ordine della provincia di Pordenone perché non vaccinati. Tra loro c'è anche un medico di medicina generale, situazione questa che comporterà probabilmente disagi per i suoi assistiti in servizio. Sono 12 i medici Novax dell'Ordine della provincia di Pordenone che sono stati sospesi dalle loro attività. Nella seduta di ieri sera infatti, terminata tarda notte, il Consiglio ha preso atto della comunicazione giunta dall'azienda sanitaria Friuli Occidentale in merito alla mancata adesione alla campagna vaccinale anti-Covid dei professionisti. Il provvedimento comporta il divieto di esercitare sia in ambito pubblico sia in ambito privato. All'origine il numero dei medici Novax segnalati era più del doppio, ma dopo varie sollecitazioni, 14 di loro hanno fatto pervenire il certificato vaccinale con inoculazioni che erano avvenute in Veneto. Guido Lucchini, presidente dell'Ordine, ha ricordato le difficoltà legate alla mancata comunicazione tra sistemi informatici di regioni diverse, che può portare a interpretazioni errate della banca dati e a risultati non colimanti. Tra i 12 professionisti non vaccinati, anche un medico di medicina generale, la sua sospensione potrebbe comportare notevoli disagi per i suoi assistiti. Vediamo adesso qual è la situazione del coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Sono 103 oggi nuovi casi di Covid, su 7.274 tra tamponi molecolari e test rapidi eseguiti. Positivo un infermiere dell'azienda sanitaria e una persona di rientro dall'Albania. Si registra un decesso dopo molti giorni. Si tratta di un 79enne di Brugnera. 9 stabili come ieri i pazienti in terapia intensiva, 30 invece quelli ricoverati in altri reparti. Le persone in isolamento crescono e sono 899. Passiamo adesso alla cronaca. Un giovane di 28 anni di Povoleto è rimasto gravemente ferito questa mattina a seguito di un incidente che si è verificato a Udina. Sua vettura è finita fuoristrada capottata. Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 6 lungo la tangenziale est all'altezza della rotonda di Godia nel territorio del comune di Udina e lungo la viabilità che poi porta a San Gottardo. Per cause al vaglio dei carabinieri della radiomobile della compagnia del capoluogo friulano intervenuti con due pattuglie per rilievi, viabilità e accertamenti, un giovane di 28 anni di Povoleto ha perso il controllo della sua vettura, una Mazda a cui era la guida. L'auto si è capotata a bordo strada e il conducente è rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo, liberato poi dai vigili del fuoco del comando di via Popone intervenuti a supporto del personale medico inviato dalla Sores di Palmanova. Sul posto l'equipaggio di un'automedica e un'autoambulanza. I pompieri hanno utilizzato le pinze oliodinamiche per liberare il conducente, poi trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto in terapia intensiva. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. E si è concluso purtroppo con il rinvenimento del corpo senza vita del parapendista che mancava da ieri dopo aver partecipato a una manifestazione sportiva. Era partito dalla Slovenia ed le sue tracce si erano perse intorno alle 18 dieri sopra tramonti di sopra. Nel frullo occidentale il suo cellulare non era stato più raggiungibile. Subito erano partite le squadre di soccorso, vigili del fuoco, soccorso alpino e anche elicottero della protezione civile. La sua bella è stata individuata. Questo pomeriggio è stato calato il medico Colvericello che ha decretato il decesso. L'uomo è precipitato, è caduto su alcune rocce ed è morto purtroppo sul colpo. Si tratta di un uomo di Como, un avvocato di 57 anni. E si conferma la partnership di Unesco per il calendario 2022 della Polizia di Stato, ogni mese accompagnato da una foto scattata da un poliziotto. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto COVAX per l'accesso equo e globale ai vaccini anche per i bambini dei paesi più poveri. Racconterà l'attività operativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della comunità in modo diverso il calendario della Polizia di Stato 2022. Le fotografie che accompagneranno i mesi infatti sono state scattate da 12 poliziotti che così hanno coniugato passione professionale e sensibilità estetica. Si conferma la partnership di Unicef. La vendita dell'ultimo calendario ha permesso di devolvere quasi 200.000 euro a favore di un progetto per fronteggiare le situazioni di disagio minorile conseguenti all'emergenza da Covid-19. Per il 2022 il ricavato sosterrà il progetto COVAX per un accesso equo e globale ai vaccini che consentirà di estendere la campagna vaccinale ai bambini dei paesi più poveri. Una quota come di consuito sarà devoluta al piano di assistenza Marco Valerio, riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie croniche. E torniamo alla cronaca. Un centauro di 70 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a seguito di un incidente stradale accaduto a Zellina di San Giorgio di Nogaro. È andato a impattare contro una vettura. È stato elitrasportato all'ospedale di Udine ai rilievi della polizia locale. È sempre a San Giorgio di Nogaro paura questo pomeriggio invece per la caduta di un balcone da una terrazza in realtà di un bambino di soli 5 anni da un'altezza di circa 4-5 metri. Anche questo bimbo è stato elitrasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine in volo ma precauzionalmente le sue condizioni non sarebbero gravi. E poi si è avvicinato a un pensionato di 86 anni. Una donna questa mattina a Sacile è riusciuta a sfilargli il Rolex che aveva il polso e anche la fede nunziale. L'uomo, un pensionato del posto, si è subito rivolto ai carabinieri della locale stazione per denunciare l'accaduto e poi un cittadino romano di 31 anni è stato arrestato questa notte per un'aggressione alla ex compagna. Si tratta di un cittadino romano di 31 anni arrestato per maltrattamenti in famiglia, violenza privata, lesioni personali. La notte scorsa, come dicevo appunto in piazza a Fiume Veneto, ha inseguito e picchiato la convivente, una connazionale di 34 anni. La donna si era rifugiata in un bar e è stata portata in ospedale per un trauma facciale. Le sue condizioni non sono gravi. Hanno rischiato anche di essere picchiati alcuni passanti che vedevano aiutarle, che sono stati minacciati con una mazza da baseball. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Udine. La regione ha decretato la proroga per Sapremo, un progetto che promuove tra i giovani nelle scuole, legalità e stili di vita sani. Di nuovo insieme quindi questura di Udine, dipartimento delle dipendenze dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, comune di Udine, Danieli e Confindustria. Udine, sentiamo. Nei giorni scorsi la regione ha decretato la proroga di Sapremo, progetto pensato per promuovere tra i giovani nelle scuole la legalità insieme a stili di vita sani. Presidente Mareschi e Danieli, quanto è importante questo patto tra mondo della scuola, operatori della salute e forze dell'ordine e imprenditori a sostegno delle nuove generazioni? È assolutamente importantissimo perché solo mettendoci insieme e solo considerando il problema del fatto che un giovane su tre si perde in alcol e droghe come un problema comune, anche se non tocca a tutti noi da vicino, riusciremo a risolverlo. Questo è un progetto che è nato in sordina per una necessità e dopodiché ha avuto un successo sempre maggiore perché è stato considerato valido. Andiamo a cercare di risolvere un problema prima che lo stesso si ponga. Quindi cerchiamo di spiegare ai nostri giovani sia da un punto di vista medico che da un punto di vista psicologico che attraverso esempi di imprenditori che ce l'hanno avuta durissima ma con grande forza di volontà sono riusciti a farcela e con spirito di sacrificio. E poi spieghiamo anche da un punto di vista legale e giuridico cosa implica una certa strada. Insomma facciamo in modo che i nostri giovani non si perdano perché ne abbiamo già troppo pochi e dobbiamo metterci in gioco per evitare di perderne anche solo uno in più. E Angela Drinovets di Butrio è Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia 2021 eletta in diretta su Telefriuli ieri sera. È intervenuta la trasmissione anche la patrona di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Vediamo. Vince il titolo di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia la concorrente numero 11 Angelica Drinovets 19 anni di Butrio Un sorriso è tutto perché un sorriso è incoraggiamento, un sorriso è ottimismo, un sorriso può sollevare la vita di ognuno, può dare fiducia. Se sorridiamo agli altri diamo un grande segno di simpatia e un sorriso rende più belli. Io dico sempre alle ragazze di sorridere perché il sorriso è tutto in una persona ma soprattutto è tutto in un viso. Ragazze sorridete. Complimenti per questa bella iniziativa che stai portando avanti con la televisione Telefriuli che io ringrazio moltissimo. È bello che le televisioni private siano vicine al concorso. Grazie di cuore a tutti. Ed è stata presentata la terza edizione Se io fossi Caino rassegna di arte e teatro in programma Gorizia dal 25 agosto. Tre serate dedicate alla vita in carcere con ospite l'attore Cesare Striano del cast dei pluripremiati film Gomorra e Cesare deve morire. Tra ottobre e novembre spazio anche agli spettacoli degli stessi detenuti nella struttura di via Barzellini. Carcere e Gorizia tornano in contatto nella terza edizione di Se io fossi Caino rassegna organizzata da Fiere in Scena insieme alla Caritas e col contributo del comune di Gorizia in programma dal 25 al 27 agosto con un appendice tra ottobre e novembre. L'obiettivo è creare un ponte tra chi vive all'interno e all'esterno del carcere coinvolgendo gli stessi detenuti attraverso il teatro. Questa prima fase prevede due spettacoli messi in scena a mercoledì e giovedì rispettivamente da Salvatore Striano ed Elisa Menon. Il primo, atteso a Palazzo di Grazia, si è innamorato della recitazione durante la sua permanenza a Re Bibbia. Dopo l'esordio al cinema con Gomorra ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino con la pellicola Cesare deve morire dei fratelli taviani. Menon invece è l'anima di Fiere in Scena e a Parco Basaglia porterà Silenzio, spettacolo dedicato alle violenze su minori. L'ultimo giorno sarà dedicata una conferenza sull'evoluzione della pena. Gli appuntamenti torneranno tra ottobre e novembre con la messa in scena dell'APS allestite dagli stessi detenuti goriziani all'interno della struttura di via Barzellini. Analoga l'iniziativa sarà proposta a Trieste col supporto del Politeama Rossetti. Il sistema carcerario nel nostro paese non funziona. Noi abbiamo una reiterazione che supera il 60%. Ecco perché è importante la componente formativa, cioè formare, far acquisire competenze ai detenuti. Questo è anche uno strumento per cambiare stili di vita proprio al detenuto. E lo sport riparte domani il campionato di Serie A per l'Udinese con i bianconeri che si troveranno di fronte all'ostacolo Juventus. Calcio d'inizio alle 18.30 allo Stadio Friuli ma già alle 18.00 sulla nostra emittente potrete seguire poltronissima condotta da Francesca Spangaro e Marco Pasquariello. Oggi la conferenza stampa di Mr. Gotti che rimane sul dubbio Larsen mentre per il convalescente Deulo Feu si profila un impiego solo part time. Sentiamo Mr. Gotti. Sappiamo che per i tifosi non è una partita normale. È a partire dal nostro presidente. Siamo pienamente consapevoli del fatto che la partita con la Juventus è una partita diversa sempre. Arriviamo a questo impegno come succede in questa parte del campionato, in questa parte della stagione a piccoli passi. Abbiamo fatto dal mio punto di vista settimana dopo settimana di piccoli passettini. Sappiamo che la squadra è ancora da definire. Per mettere in difficoltà la Juve devi concedere poco spazio. Devi non rinunciare ad attaccarli. Deulo Feu. È di sicuro in crescita. Mi sembra che stia bene. È di sicuro lontano dal suo potenziale. Ha pochissimi minuti nelle gambe. Per il suo percorso di recupero fisico ha fatto pochissimi minuti. Bisognerà avere un altro po' di pazienza. E si è conclusa la prima giornata del rally delle Alpi orientali a Cividaro del Friuli. 55, gli equipaggi con autostoriche 150, quelli con mezzi recenti. All'eventuno lo speciale su Telefriuli, curato da Daniele Paroni e Simone Caramaschi. La competizione è stata vinta dall'equipaggio Crugnola-Zan. Ed era l'ultima notizia per il nostro Tg. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.